La finanza amichevole a cura di Alessandro Fatichi Buongiorno e benvenuti ad un nuovo episodio della finanza amichevole. Oggi parleremo delle bolle speculative. Una bolla speculativa nasce quando ci troviamo di fronte ad un notevole irrazionale aumento dei prezzi di un bene, a seguito della forte domanda per un breve periodo. Quando si parla di bolla speculativa non ci si riferisce soltanto ai mercati finanziari, ma anche a beni materiali. Generalmente, dopo la nascita di una bolla, segue il cosiddetto scoppio, che riporta la situazione ai valori originari. Ma facciamo una piccola cronistoria delle più famose bolle speculative. Quella dei tulipani è considerata la prima e più famosa bolla speculativa avvenuta tra il 1634 e il 1637. Pensate che con due bulbi potevamo acquistare una casa in zona centrale ad Amsterdam. Sempre in Olanda, agli inizi del 1700, la società di navigazione South Sea riuscì ad attrarre molti risparmiatori con il repentino rialzo delle sue obbligazioni. Rialzo pilotato da movimenti sia di insider trading e di corruzione. Il risultato fu la perdita della totalità dei risparmi da parte degli investitori. Nel 1840 tocca a Londra il boom delle azioni di società ferroviarie. Il successivo scoppio provocò il fallimento di molte aziende. Nel 1907 quella del rame con il tracollo della Trust Company. La prima immobiliare è quella degli anni 20 in Florida, che fece lievitare e poi crollare i prezzi dei terreni. Arriviamo a quella che è ricordata come la più devastante crisi con il crollo di Wall Street il 29 ottobre 1929, il famoso martedì nero, con un calo dell'indice superiore al 12%. Questa bolla nacque dall'eccessivo indebitamento della classe media che prendeva i soldi in prestito per investire in borsa. Molte le banche che fallirono. Poi la bolla immobiliare e conseguentemente azionaria di fine anni 80 in Giappone. Per avere un'idea il terreno dove c'è il palazzo imperiale di Tokyo valeva come tutta la California. La borsa nipponica perse più del 60%. Fine anni 90 la bolla asiatica. Quest'area aveva attirato notevoli finanziamenti dall'occidente. In quel periodo in pochi giorni uscirono da questi mercati provocando crolli soprattutto alla borsa di Hong Kong in Thailandia, Corea del Sud e Indonesia. Ed eccoci ad un'altra bolla famosa, quella di internet a cavallo di fine anni 90 inizi anni 2000. Qualsiasi azienda che era collegata al web saliva incondizionatamente. L'indice Nasdaq passò da 600 a 5000 punti in due anni per poi crollare sino a 1000 portando alla seconda forte recessione negli Stati Uniti dopo quella del 1929. Nel 2008 abbiamo pensato di rivivere un secondo 1929 con la bolla immobiliare e demutui subprime negli Stati Uniti portando al successivo fallimento della Lehman Brothers. Una grande recessione che ha avuto l'effetto contagio a livello globale sia a livello industriale che di crescita del PIL delle singole nazioni con ripercussioni sul debito sovrano. Il 2015 lo ricordiamo come l'ultima vera bolla speculativa avvenuta in Cina. La borsa di Shanghai crolla del 32% in tre settimane dopo aver raddoppiato il livello di capitalizzazione delle aziende quotate. Causata anche questa, come quella internet negli Stati Uniti, dall'eccessivo indebitamento dei risparmiatori per investire nel mercato azionario, attratti da possibili facili guadagni in tempi brevi. Per ultima possiamo definire quella sui Bitcoin. Non ha creato sconvolgimenti mondiali, ma la nascita della prima criptovaluta ha portato le sue quotazioni da 752 dollari del 12 gennaio 2017 ad un massimo toccato il 18 dicembre 2017 a 19.511 dollari, con un rendimento del 2.492%. Dopo un anno, a fine 2018, le quotazioni erano tornate a circa 3.000 dollari. Tutto questo deve sempre farci capire che non dobbiamo seguire le mode, oppure fare tutto da soli e farsi prendere dal panico. Dobbiamo pianificare, diversificare e fare piani a lungo termine. La citazione di oggi è la seguente. Gran parte dell'indipendenza finanziaria deriva dall'avere la mente e il cuore liberi dalle preoccupazioni sui sé della vita. Suze Orman, rendiamo la finanza amichevole. Vi aspetto.